Ciao ragazzi, nuovo video in collaborazione con The Colors of Youtube a tema estate, le ragazze in estate, mi sembra che sia così il titolo, comunque lo vedrete scritto, vi lascio tutti i link delle ragazze e del gruppo facebook ideato da Antonella e Azzurra, Azzutube e i consigli di Antonella, ciao ragazze, vi adoro, allora video outfit molto particolare, ho provato a farne altre ma non mi piacciono, sono, adoro le gonne lunghe, quindi anche se non ho le scarpe adatte, perché ci andrebbero delle zeppe con le gonne lunghe, ma io non le ho, e scarpe aperte non le ho, quindi scarpe da ginnastica, non mi piacerebbe avere magari delle palle di iene o dei sandri, di infradito qualcosa, ma vedremo più avanti, comunque adesso uso quello che ho, quindi non criticate, non insultate, fai schifo oggi, io metto quello che ho, allora ho messo, vi faccio vedere, la collana di Jessica, braccialetti niente perché fa un caldo allucinante, quindi sono tutta sudata, orologio, trucco poco niente rosa che neanche si vede, rossetto con alcalling della essence 01 appunto della essence, ho già detto, collana questa qui bellissima, almeno non faccio troppi colori, la maglietta del Lidl, semplice nera, forse una collana andava anche più lunga, ma vabbè, mi piace così, quindi ok, la collana l'ho messa a blu, perché sennò mi sembrava di essere un po' in lutto, non è il caso, scusate se non faccio video outfit in giro, ma vabbè, lo faccio in casa, poi comunque tutti i vestiti che ho indosso e che ho indossato già, cioè tutti i vestiti che ho nell'armadio li avete già visti indossati su di me gli altri anni, allora questa è una gonna, plissettata lunghissima, con le calze corte nere, io sono bianca come latte, le scarpe della ginnastica di Piazza Italia, questa gonna lunga ha una sottogonna, vedete, ok, sono una mozzarella, io devo prendere un po' di sole, la gonna è lunghissima ed è plissettata, è stupenda, io adoro ste gonne così lunghe, bellissima, svolazzante se c'è un po' d'aria, non è troppo corta, non è aderente, ce l'ho blu, nera e rossa anche, c'è rosa, ed è così blu, l'ho messa abbastanza in alto, la fascia così, ed è blu, c'è anche nera, ma blu e nero mi piace, non so se va bene con i colori, non so abbinare i colori, quindi mi perdonerete, questo è il video outfit, spero che vada bene per il video in collaborazione con The Colors of Youtube, grazie ragazze per aver ideato questo gruppo e per ideare ogni mese delle collaborazioni bellissime, è la stagione delle conne lunghe, quindi mettiamoci una gonna lunga anche oggi, vi saluto, a presto, commentate e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina, notifica, mi arriveranno tutte le notifiche dei miei video, adoro questa gonna, quanta bella, cappelli legati sempre comunque, poco trucco, pochi braccialetti, spero mi piaccia il video, ciao, gonna risettata blu, larga, lunga, bellissima, a presto